Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, come state? Spero tutto bene, oggi si gioca, finalmente, torna la Juventus, possiamo un attimino capire se quella di Napoli è stata soltanto una sconfitta isolata, un episodio isolato, o se per la Juve va ad aprirsi un vero e proprio ciclo negativo. Perché dico questo? Perché questa è la mia più grande paura, ma ve l'ho già detto tante volte, soprattutto guardando anche squadre come il Milan, che in questo momento sono in un momento negativo, difficilmente si limita alla singola partita, sono cose che vanno ad accumularci col tempo, anche ieri sera la sconfitta per 3-0 in Supercoppa va proprio in quella direzione lì, di un Milan che in questo momento fa fatica a uscirne, anche se vogliamo dal punto di vista mentale. Probabilmente 3-0 non me lo sarei mai aspettato, in uno scontoretto del genere in cui mi immaginavo due squadre con un livello piuttosto simile e quindi cerchiamo di non cadere anche noi nella trappola perché non fare risultato e quindi uscire questa sera dalla Coppa Italia ci mette nella condizione di andare a affrontare la prossima partita di campionato domenica sera a Torino contro l'Atalanta in maniera terrificante. Quindi non possiamo assolutamente permetterci una cosa del genere, questa sera dobbiamo vincere e per farlo dobbiamo dare fondo a tutte le nostre energie. Andremo a vedere la probabile formazione di stasera, andremo ad ascoltare le parole del neopresidente della Juventus perché da ieri è iniziata un'era e oggi si apre ufficialmente una nuova epoca appunto legata alla presidenza, alla dirigenza già per una partita di calcio, quindi oggi ci sarà la prima partita di calcio della nuova dirigenza della Juventus, del nuovo presidente della Juventus, Ferrero. E infine, anzi infine ve lo dico già adesso, vi lascio comunque qui sotto in descrizione il link per scaricare il numero 10, perché? Perché ieri sera ho fatto uscire un articolo che parla della gestione di Allegri dei giovani, perché secondo me è un argomento che è tanto dibattuto ma ci sono delle inesattezze storiche. Inoltre, sempre oggi, sul numero 10 uscirà un video in cui vi parlo ancora una volta di Allegri e vado a citare tre punti fondamentali di quello che è stato l'AllegreBiz, quindi se non volete perdervi questi due contenuti, uno scritto l'articolo e uno video in esclusiva sull'applicazione, scaricatevela gratuitamente dal link in descrizione. Concludo, prima di passare alle notizie e alle informazioni di cui vi parlavo prima che vi avevo promesso, permettetemi un cappello finale su quella che è stata l'epoca, l'era, la gestione e la presidenza Andrea Agnelli, perché ieri si è concluso ufficialmente, come scrivevo anche su Twitter, su Instagram e come ho postato anche qui nella sezione community di YouTube, credo che la presidenza di Agnelli sia stata nettamente decisamente positiva, nettamente decisamente positiva, a un passo dalla perfezione sfumata due volte sul finale per via di due finali europee, due finali di Coppa dei Campioni perse, lì veramente avremmo raggiunto la perfezione con alcuni momenti bui, e ne stiamo vivendo anche uno adesso, abbiamo passato Suarez, ne abbiamo passate, ci sono state anche delle cose non belle, ma credo che nel complesso, dalla costruzione dello stadio e l'inaugurazione dello stadium, i nove scudetti di fila, le due finali di Champions, che sì, sono una cosa negativa perché le hai perse, ma secondo me sono stati percorsi super super positivi, la creazione della seconda squadra della Next Gen, la creazione della squadra femminile che sta dominando il campionato italiano femminile da anni a questa parte, tantissimi giocatori, tantissimi campioni, negli ultimi anni devo dire la verità, e lo sapete bene perché ne abbiamo sempre parlato, non mi trovavo particolarmente d'accordo e non giudicavo in maniera positiva le scelte di Andrea Agnelli, anzi prima delle dimissioni c'è stato probabilmente il picco massimo di non essere d'accordo con lui, proprio per un discorso legato a quella che era la stagione in corso, la stagione corrente, ma credo che nel complesso, nonostante i tanti errori, e siccome sono stati tanti negli ultimi anni, ci sono i video che vi elencano anche tutte le motivazioni, quindi eventualmente andatevele a vedere, non voglio stare qui a ripetermi, credo che sia stato assolutamente un percorso super positivo, un viaggio super positivo, che si conclude non come doveva, probabilmente, non nel migliore dei modi, e vediamo invece come parte il nuovo presidente della Juventus e quindi cercherei, anzi direi di ascoltare direttamente adesso le sue parole, così poi mi tolgo le cuffie e parliamo della partita di stasera. Questa è la promessa che Ferrero ieri ha voluto fare ai tifosi della Juventus, saranno due o tre minuti di chiacchierata in cui sentirete la voce del presidente, quindi io in questo momento mi taccio e ascolto insieme a voi. Proprio per i tifosi io voglio essere molto chiaro, cioè quando ho assunto questo impegno di diventare presidente della Juventus, l'ho assunto con l'idea di dare il massimo del mio impegno per questa squadra, per la Juventus. Assieme al CDA che è stato oggi eletto assieme a me e assieme al nuovo amministratore delegato, lavoreremo per costruire un futuro della Juventus che sia pari all'altezza di quello che è stato il suo passato. Un passato glorioso, un passato di 125 anni, un passato che ha fatto di questa società una gloria del mondo sportivo e soprattutto la più forte società di calcio italiana. E quando parlo di Juventus parlo di tutta la Juventus, la Juventus che lavora sul campo e la Juventus che lavora fuori dal campo, quindi tutta la società e tutti quelli che ci lavorano dentro. Come sapete, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ci aspettano delle sfide e per le quali noi come Consiglio di amministrazione riteniamo di avere l'esperienza, la competenza, la determinazione per difendere la Juventus, per difendere la nostra squadra in tutte le sedi competenti. Quando parlo di tutte le sedi competenti parlo evidentemente della sede penale, della sede sportiva e della sede civile. lo faremo con determinazione, lo faremo con rigore, lo faremo anche con pacatezza e senza nessuna forma di arroganza. Abbiamo sempre rispettato, rispettiamo e sempre rispetteremo tutti coloro che saranno chiamati a giudicarci. Ma quello che vogliamo è uguale rispetto per noi, per la società e per la nostra squadra, per poter discutere con serietà, rigore, nelle sedi competenti quelle che sono state sostanzialmente le motivazioni del nostro agire. Allora, un male inenarrabile, ma questo è il motivo per cui di solito quando registro metto fuori il gatto, adesso ci teniamo questo bel ricordo, il suo bel autografo, poi magari andiamo a medicarci. Ma queste sono state le parole del neopresidente della Juventus. Secondo me sono state delle belle parole, delle parole importanti di presentazione, ovviamente non possiamo ancora dare un giudizio per forza di cose, però il primo impatto proprio a livello umano è stato positivo. Cosa che non mi aveva trasmesso Arrivabene, ricorderete i video della presentazione di Arrivabene, non mi era piaciuto per niente e dopo un anno e mezzo di lavoro alla Juventus, credo che Arrivabene abbia lasciato veramente poco al tifoso della Juve e forse anche alla Juventus stessa intesa come società. Invece io vi parlavo di Cherubini, vi dicevo che invece della figura di Cherubini ero molto molto contento che tra l'altro è in società di Juventus da più tempo, quindi mi spiacerebbe vedere un'uscita di scena da parte di Cherubini a giugno. Quindi sono due figure che hanno operato lato Juve in questi mesi e secondo me vanno in due direzioni differenti. Quindi queste sono le parole del Presidente, la promessa del Presidente ai tifosi di comunque mettercela tutta e di cercare di dare alla Juventus quella che è l'identità della Juventus e di portare avanti una tradizione che dura più di cento anni una tradizione legata alle vittorie e speriamo che questo possa essere assolutamente vero. Ma per iniziare a vincere davvero qualcosa nel concreto dobbiamo preoccuparci della Coppa Italia e dobbiamo preoccuparci di non fare una brutta figura questa sera contro il Monza. Questa la probabile formazione dovrebbe giocare così la Juve. La formazione è molto interessante, devo dire la verità, perché intanto vi faccio vedere quella che era la mia idea di formazione, diciamo che è molto simile dal punto di vista degli uomini schierati perché l'unica differenza, è Miretti per Rabiot, Barbieri per Sule e Bremer per Danilo. Poi gli altri otto sono gli stessi, cambia solo la disposizione in campo di come vi avevo detto l'altro giorno che avrei voluto vedere la Juventus, quindi non siamo troppo distanti. Comunque uno tra Miretti e Fagioli potrebbe andare tra le linee insieme a Federico Chiesa a giocare dietro Moise Ken. I Ling sulla sinistra ok per dare un turno di riposo a Kostic, Sule sulla destra mi convince un po' meno, ma quello è sempre una sorta di discorso che ci stiamo portando dietro da un po'. Secondo me quella posizione lì, uno come Sule, uno come Chiesa fa fatica nel 3-5-2 inteso da Massimiliano Allegri, per quello che è il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Quindi io non lo vedo per niente perché comunque dare il compito a Sule o al Chiesa di turno di coprire, fare la diagonale, di abbassarsi tanto sulla linea dei difensori per andare a formare i quinti di difesa. Già i Ling probabilmente fa un po' fatica, ma è più portato in maniera naturale a farlo. Sule è un giocatore che deve giocare tra le linee, un giocatore che deve giocare sull'esterno quasi al ridosso della trequarti campo. Quindi quella posizione secondo me è molto molto sprecato e rischiamo un pochino di snaturarlo e soprattutto di creare un buco a destra nella Juve. Lo abbiamo visto anche con la Cremonese, molto bene gli spunti offensivi dove aveva creato due o tre occasioni praticamente da solo, molto male quando invece dovevamo abbassarci, doveva difendere e andare a far la diagonale. Quindi secondo me è un po' l'errore che c'è stato l'altra sera col Napoli, con Chiesa in quella posizione, quindi eviterei di farlo. Giocherei con un giocatore più idoneo a quelle caratteristiche come appunto Barbieri. Se invece Barbieri non è disponibile, non è convocato o Allegri ha altre scelte, altre idee, vedremo che cosa farà Sule è in quella posizione. Quindi devo dire la verità, la formazione comunque mi convince, tranne per quel dettaglio lì. Paredes, come vi dicevo, voglio vedere Paredes all'opera è ora che Paredes provi a riscattarsi da solo, non riscatto nel senso del ti compro il cartellino, ma riscatto nel senso del, sì ma se non sei titolare devi trovare dentro di te anche quella forza per ribaltare le gerarchie perché sennò non si va da nessuna parte. I miretti e fagioli insieme invece è un ottimo assist all'articolo che ho scritto e quindi vi invito a andarvelo a leggere sul numero 10. Quindi niente, direi che la difesa comunque ci può stare. Io avevo fatto giocare Bremer ma perché Bremer non l'ho visto bene l'altra sera con Napoli, quindi secondo me ha bisogno di mettere intanto energia mentale e poi dei minuti nelle gambe perché ha avuto anche un affaticamento, quindi probabilmente sia a livello fisico sia a livello psicologico qualcosa da recuperare, in Bremer c'è e non vorrei farlo con l'Atalanta direttamente, quindi avrei preferito un turno di riposo per Danilo e un turno in più per Bremer, però anche qua sono mie letture contro lettura dell'allenatore quindi ovviamente non posso metterci becco, immagino che l'allenatore sappia quello che sta facendo e che sia tutto sotto controllo, quindi spero che stasera si possa tranquillamente passare il turno senza andare a supplementari perché sarebbe un ulteriore spreco di energie sia fisiche che nervose, inutile anche perché poi ripeto domenica giochiamo quindi è una partita non facile con l'Atalanta e questa è una partita indispensabile per quella che è la stagione della Juve. E quindi ragazzi ci vediamo stasera, solita live reaction e poi post partita e tutto quello che ne deriva anche il giorno dopo con le varie pagelle e tutto quanto. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate qui sotto nei commenti della formazione delle parole del presidente dell'addio di Andrea Agnelli e io vado a medicarmi il naso perché sto continuando a perdere sangue.